Siamo con l'ormai ex sindaco di Elvignano ed ex presidente della provincia di Caserta, l'ingegnere Di Costanzo, Angelo Di Costanzo. Ingegnere, delle sue dimissioni si è parlato fin dal giorno in cui lei è stato coinvolto in questa inchiesta giudiziaria, dimissioni poi che sono state sempre, voci che sono state sempre smentite. Perché proprio adesso? E' un discorso di famiglia, io sono da tre mesi e mezzo lontano da casa e sento la mancanza della mia famiglia, ho tre figli, due minorenni che riesco a vedere giustamente solo quando possono venire perché loro frequentano la scuola e quindi vorrei poter avere la possibilità di stare vicino alla mia famiglia e poter svolgere il mio lavoro come ingegnere in provincia di Caserta. Quindi chiederò nei prossimi giorni, il mio avvocato chiederà nei prossimi giorni al giudice la possibilità di potermi recare a casa per stare vicino alla mia famiglia e per svolgere il mio lavoro come professionista. Ingegnere, lei con le dimissioni si scioglie il comune di Alvignano e anche perde la carica da presidente della provincia di Caserta dove lei era stato eletto nel maggio del 2015. Attualmente la questione della provincia di Caserta ha un grosso problema dove lei tutti i giorni ritorna sempre su questa questione del Ponte Margherita. Lei ci vuol chiarire la questione del Ponte Margherita nel momento in cui lei era presidente della provincia di Caserta? Sì, ho spiegato varie volte negli incontri anche con il comitato proponte che la figura del presidente non ha la possibilità di evitare la chiusura di un ponte nel momento in cui questo viene dichiarato da un comitato impercorribile perché attiene alla competenza dei dirigenti che per la Bassanini hanno loro esclusivamente il compito di vigilare sulla transitabilità delle strutture. Io quando sono stato eletto ho trovato già un lavoro svolto precedentemente perché la passata questa amministrazione ha dato incarico a dei tecnici per la verifica dei ponti così come prescrive la legge ed è stato precedentemente quando io non ero presidente costituito un comitato scientifico che doveva valutare i risultati di queste verifiche. Quando sono stato eletto erano state già fatti dei prelievi, dei carotaggi sulla struttura per verificare la rispondenza dei materiali ai requisiti che prevede la legge. Il comitato scientifico ha prescritto un'ulteriore indagine, quindi c'erano due indagini fatti dai laboratori che erano accreditati presso il ministero per quanto riguarda la verifica delle strutture, la verifica dei materiali e il comitato scientifico ha scritto al dirigente della viabilità di chiudere questa struttura perché era pericolosa. Io ho cercato di sensibilizzare i sindaci e l'opinione pubblica facendo una riunione in provincia con i capigruppo di tutti i partiti e con i sindaci dell'area per notificare questa situazione e poi non ho potuto chiaramente fare nessun atto perché non era di mia competenza. Ho cercato di recuperare i fondi necessari per l'utilizzazione di questo ponte facendo dei lavori che potevano eliminare temporaneamente il problema e consentire per un periodo di tempo limitato il transito e insieme predisporre un progetto di un nuovo ponte che è stato inserito dal Governatore De Luca nel patto per il sud fatto con Renzi. Quindi vengo secondo me ingiustamente additato come il responsabile della chiusura perché non sono io il competente per emettere né ho fatto mai un atto in questo senso. Credo di aver svolto insieme anche ai consiglieri provinciali ho fatto tutto quello che potevo fare in termini politici per evitare che questa situazione durasse per tanto tempo. Quindi abbiamo inserito come la priorità numero uno il ponte Margherit per il finanziamento di 700 mila euro per fare questi lavori necessari e non credo di aver potuto fare cose diverse quindi non potevo fare altro rispetto a quello che ho fatto. Mi dispiace tantissimo che tutti i giorni vengo additato come il responsabile di questa chiusura e lasciando trapelare anche interessi di natura diversi che mi riservo e avrò con i miei legali di tutelare come immagine per calunnia e per diffamazione perché veramente sono stanco di apparire tutti i giorni su Facebook, sui blog e di essere additato come il responsabile di questa chiusura. Ingegnere, spostiamoci un attimo sul lato politico. Lei è stato eletto presidente della provincia come anche sindaco di Alvignano in una coalizione di centrodestra. Nel momento in cui lei però si è insediato ha trovato una situazione così drammatica che ha attuato una politica di bipartisan anche per cercare di risolvere la situazione interpellando il governo centrale. Questa sua azione bipartisan non è stata proprio del tutto gradita dalla sua parte politica. In questa vicenda la sua parte politica l'è stata vicina? Ma diciamo che in questa vicenda diciamo mi è stata vicina la famiglia. Io penso che quando succedono alcune cose non puoi aspettarti di trovarti vicine molte persone perché poi sarà il tempo e sarà poi la giustizia che renderà conto di quello che uno ha fatto e di quello che uno non ha fatto. Quindi voglio dire alla fine non mi aspettavo nemmeno una vicina. Sono contento di aver fatto quella scelta appena eletto il fatto di allargare la maggioranza anche a tutte le persone. Che tra l'altro sta continuando. Sì che tra l'altro penso stanno continuando. Io sono contento perché veramente ho avuto una collaborazione da parte di tutti i partiti e quindi li ringrazio per come in provincia diciamo mi hanno coadiuvato proprio in virtù del fatto che per le province diciamo c'è stato un periodo buio dovuto a questa fase di incertezza dovuta alla nuova legge del RIA quindi l'eliminazione delle province e forse diciamo non è stata gestita bene il discorso poi delle funzioni nel senso che le province andavano eliminate però di fatto le funzioni sono rimaste in capo alla provincia e quindi diciamo abbiamo avuto enormi difficoltà nel gestire queste funzioni non avendo poi le somme necessarie per fare in modo che in questa gestione non venissero poi a mancare i servizi per i cittadini quindi nelle scuole, sulle strade eccetera. Nell'augurare buon anno l'ingegnere di Costanzo cosa si augura per il 2017? Io auguro a tutti un anno sereno in famiglia, tranquillo e auguro ogni bene a tutti Grazie Grazie Grazie